Finacciato da un paziente continua l'allarme per le aggressioni e i danni degli operatori sanitari l'ultima vittima è un medico di famiglia di Vicenza che detto basta è presentato dimissioni dottoressa aggredita all'angelo di Mestre. Pronunciata oggi a Padova la condanna contro Diletta Miatello, la 53enne ex vigilessa di San Martino di Luperi che uccise entrambi i genitori nel dicembre del 2022 e il PM aveva chiesto l'ergascolo. Schianto in moto contro un'automobile morto alla periferia di Bussolengo nel Veronese un giovane di 22 anni di valeggio inutili tentativi di rianimarlo. I mezzi di carcere per l'ex assessore Boraso che coincidono con il giorno del suo compleanno Boraso ha scritto una lettera all'amico Piero in cui si scusa con tutti e dice di essere provato. Un altro giocatore del Padova coinvolto in indagine per stupro, il centrocampista Cretella rinviato a giudizio a Messina per fatti accaduti nel 2020 intanto, caso Liguori divide la politica. Opponevano incontri omosessuali salvo poi ricattare gli ignari partner esponenti della Treviso Bene nella marca finiscono a processo per tentata estorsione due ventenni. Nuova perturbazione in arrivo ed ennesima allerta meteo in meteo in Veneto da domani al pomeriggio di venerdì attesi da ovesta temporali e precipitazioni abbondanti. Buonasera, ben trovate edizione regionale dei nostri telegiornali in apertura. Avete sentito ancora il caso di aggressioni agli operatori sanitari minacciato da un paziente e continua l'allarme ai danni degli operatori sanitari. L'ultima vittima è un medico di famiglia di Vicenza. Medici in trincea. Sono 1864 le aggressioni subite dagli operatori sanitari in Veneto nel 2024. L'ultima si consuma a Vicenza, a San Pio X, un quartiere che porta i segni del degrado. Sporcizia, furti, droga. Ed è qui, nell'ambulatorio del dottor Massimo Omerini, finché si presenta un tunisino. Il medico se lo trova di fronte nella sala d'aspetto. Avanti il prossimo. Buongiorno. Guardi, io l'ho allontanata per un comportamento aggressivo verso di me. L'ho comunicato all'Aas, la prego gentilmente di alzarsi. Davanti agli occhi esterrefatti degli altri pazienti, lo straniero, che sembra alterato dall'alcol, chiede dei farmaci che il medico non intende prescrivergli. Sì, lui mi chiede insistentemente dei farmaci sedativi usati, che noi sappiamo, nel mondo del racket per tagliare gli stupefacenti. Rifiuto categoricamente. La sua risposta è alzarsi, minacciarmi, bestepiarmi, dicendomi qua si mette male per lei. A un certo punto io estraggo questo attrezzo, che è lo spray al peperoncino, che ahimè sono dotato, e gli intimo di alzarmi. Tengo i nervi saldi, i pazienti erano terrorizzati, e lui bestemmiando per fortuna se ne va. Minacci, insulti, ma il dottor Omerini ha sangue freddo e gestisce al meglio la situazione. Purtroppo però non è la prima volta che si trova a fronteggiare pazienti aggressivi, e non è l'unico. 15 mesi fa una dottoressa in un quartiere qua vicino a Cabalbi fu strangolata da una persona che pretendeva molti giorni di malattia. Lei pubblicò nella chat e nei nostri medici di famiglia, siamo circa 70 a Vicenza, ragazzi non ce la faccio più. Io ho crisi di ansia, ci ha mostrato i segni dello strangolamento, io mi licenzio. Noi medici siamo rassegnati, nessuno ci difende, in ospedale le aggressioni succedono, ma loro hanno i Rangers e poi sono equip. Noi siamo da soli, chiunque può venire, minacciarci, rubare, spingerci, aggredirci. La situazione è esasperata. Il dottor Romerini ha deciso di dare le dimissioni e i suoi 1600 pazienti resteranno senza un medico finché l'Ulz non ne nominerà uno nuovo. Ma così non si può più andare avanti. Istituiamo uno sportello per il medico aggredito, in burnout, eccetera, perché noi abbiamo un risentimento poi psicoemotivo che ci portiamo a casa. Non costa nulla, è da due anni che lo propongo, ho sempre trovato semafori rossi. Due, consentiteci di mettere una webcam che ci difenda. Tuttora le mie proposte di installare una banale webcam di 40 euro è stata sempre negata. Perché? Perché c'è il motivo della privacy. Il dottor Romerini ha la passione per il suo lavoro. Ha lavorato in Africa, ha operato in zone di guerra, ma questa guerra, quella strisciante del degrado, dell'inciviltà, è diventata logorante, inaccettabile e sono in aumento gli episodi di pazienti aggressivi. Queste persone, e non sono poche, sanno di rimanere impunite. Sanno che nessuno toccherà, sanno toccate per un dito. Quindi il mio appello, anche se, ripeto, sono molto rassegnato, è aiutateci. Un uomo ha aggredito con un bastone da passeggio una dottoressa del pronto soccorso dell'angelo di Mestre. L'Ulstre stigmatizza e denuncia il grave episodio avvenuto nel pronto soccorso di Mestre, documentato in modo strumentale da un video diffuso sui social, dicono. Quanto affermato da chi ha prodotto il video non corrisponde al vero, scrive l'azienda. Sia il paziente accompagnato dalla persona che ha effettuato il video e che si lamenta per i tempi d'attesa, che quello che ha aggredito la dottoressa con un bastone da passeggio, sono stati assistiti nei tempi. Il paziente aggressore era già stato visitato e, se liberata dai vincoli di rispetto della privacy, l'azienda sanitaria è pronta a fornire ulteriore documentazione sull'iter di assistenza. Contrariamente a quanto si afferma nel video, si legge ancora, il pronto soccorso lavorava organico corrispondente a necessità e protocolli. Nulla giustifica l'aggressione verbale perpetrata ai danni degli operatori del pronto soccorso e la diffusione di affermazioni prive di fondamento. L'Ulstre, conclude, si riserva di tutelare in ogni sede opportuna la dignità dei propri medici, infermieri e operatori sociosanitari e condanna con fermezza ogni episodio di aggressione, di violenza e denigratorio nei confronti dei lavoratori che ogni giorno si spendono per soccorrere e curare al meglio migliaia di cittadini. Stata emessa oggi la condanna a carico di Diletta Miatello, la 53enne di San Martino di Lupari, che uccise i genitori nel dicembre del 2022. Diletta Miatello è stata condannata a 28 anni di carcere per aver ucciso la mamma Maria Angela Sarto, 84 anni, e aver ferito gravemente il padre Giorgio Miatello, 89 anni, morto due mesi dopo l'aggressione. L'ex vigilessa di San Martino di Lupari è stata giudicata in primo grado dalla Corte d'Assise del Tribunale di Padova. Il pubblico ministero aveva chiesto per la donna l'ergastolo e sei mesi di isolamento diurno per l'omicidio dei genitori colpiti a morte mentre stavano dormendo il 27 dicembre del 2022. L'aggressione nella casa di San Martino di Lupari, la madre finita mentre era a letto nella camera al piano superiore, il padre massacrato di botte mentre dormiva in divano. L'arma del delitto, cocci e su pelletti li trovati in casa. Il processo ha ricostruito il rapporto turbolento tra Diletta Miatello e i genitori con cui litigava spesso per ragioni di soldi. Ma le radici del rancore sembra risalissero all'infanzia caratterizzata da momenti difficili e comportamenti violenti del padre confermati anche dalla sorella di Diletta che quella mattina del 27 dicembre 2022 scoprì la mattanza. Diletta Miatello quel giorno aveva impedito alla badante di entrare in casa, poi aveva preso l'auto e si era rifugiata in un motel di Romano Dezzelino dove l'hanno trovata i carabinieri che erano arrivati sul luogo del delitto. Ancora una tragedia sulle strade del Veneto. Questa mattina intorno alle 13 nella periferia di Bussolengo a perdere la vita un 22enne di valeggio nello scontro tra la sua moto e un'auto. Uno schianto violentissimo che ha sbalzato il giovane contro la portiera della vettura. immediato sul posto l'intervento del SUEM che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 22enne e la ricostruzione della dinamica della tragedia affidata agli agenti della polizia stradale di Bardolino. Dovevano essere degli incontri sessuali a pagamento, in realtà erano delle trappole vittime diversi professionisti della Treviso Bene. Erano talmente sicuri del silenzio delle loro vittime, quasi tutti professionisti e sulla carta irreprensibili padri di famiglia che sui siti di annunci hot avevano pubblicato anche il loro vero numero di telefono. Un senso di impunità che li avrebbe portati a ricattare diversi uomini, forse una ventina, ai quali prospettavano incontri sessuali in cambio di denaro, salvo poi, al momento di appartarsi, ricattarli anche violentemente. Il giro, messo in piedi da due ventenni trevigiani, uno di Castelfranco, l'altro di Montebelluna, sarebbe stato molto florido e avrebbe fruttato tanti soldi, con tanti che esibivano anche pubblicamente nei locali della zona, vantandosi delle loro prodezze. Lo schema era collaudato, a farlo saltare però è stata una vittima, un operaio 48enne che li ha incontrati nel maggio di tre anni fa. Coppia di ragazzi maialoni cerca incontro, era il tenore del loro annuncio con tutti i riferimenti del caso, da qui il primo contatto virtuale con l'elenco delle prestazioni richieste e relative tariffe e poi l'appuntamento fisico. Nel caso, oggetto della denuncia, la prima stretta di mano sarebbe avvenuta davanti al Duomo di Montebelluna, poi i tre si sarebbero appartati per un rapporto orale in zona cimitero. Qui le minacce e i tentativi di estorsione, l'uomo avrebbe consegnato 50 euro a testa, con la prospettiva di aggiungerne altri 200 in 15 giorni. Paga o ti mandiamo dei rom a spaccarti la faccia, una delle frasi utilizzate in questo come in altri casi, e poi la minaccia, chiamiamola così, di rivelare l'omosessualità a mogli e compagnie. Insomma, un clima di intimidazione che il 48enne ha deciso di denunciare, contrariamente alle altre vittime che sono state comunque individuate in fase di indagine. Per i due ventenni accusati di tentata estorsione, il processo inizierà a fine novembre. Tre mesi di carcere per Boraso, l'ex assessore ha scritto una lettera all'amico Piero, in cui si scusa con tutte e dice di essere provato. Tutto quello che ha scritto, che ha fatto, se è successo qualcosa, l'ha fatto sicuramente in buona fede, non pensando se sarà vero, se ha preso dei soldi, non li ha presi, con tangenti o quant'altro. Sì, tutti i fatturati, quindi non è... Se ovviamente tutto questo è un complesso di interesse, diventa un problema che lui non l'ha fatto in cattiva fede. A parlare è Gian Piero Trabuio, amico di sempre dell'ex assessore Renato Boraso, detenuto da tre mesi nel carcere di Padova, l'unico dell'inchiesta palude a non essere ancora uscito. Boraso ha scritto una lettera all'amico Piero, in cui sostanzialmente chiede scusa per tutto, a lui, ad altri amici più stretti di Favaro, un paese per cui, racconta Trabuio, ha fatto tanto. Si manca per quello che ha fatto, per quello che poteva fare per il nostro territorio, ma non solo per Favaro, ma anche per tutto il comune, perché lui era presente su tutte le difficoltà del nostro comune. Ma senza interessi, perché non l'ho mai sentito una volta che abbia detto voglio qualcosa in contropartita, no, mai, mai, mai. Lo faceva sacrificando anche la propria famiglia. Boraso scrive di essere psicologicamente provato, di sentire la mancanza della sua famiglia, la moglie Tiziana e i tre figli. A giorni dovrebbe essere depositata la richiesta di scarcerazione da parte del suo difensore, l'avvocato Umberto Pauro, che punterà anche sulle dimissioni immediate da assessore presentate a pochi giorni dall'arresto. E proprio nel giorno in cui Boraso compie gli anni, Trabuio ci tiene anche a far sapere che lui e i suoi veri amici ci saranno. L'amico vero si vede nel momento di bisogno, ricordo, nel momento in cui tutti stiamo bene, che si spiega e gira, si diventa tutti amici, i veri amici non sono tutti questi. I veri amici quando c'è in difficoltà o c'è problemi non si presenta, i veri amici sono quelli veri, quelli che si seguono sempre, al di là di quello che è successo. Operazione bonus facciate, sequestrati 10 milioni di euro dalla Guardia di Finanza di T.E. 10 milioni di euro arrivati dal cosiddetto bonus facciate, ma ottenuti grazie a crediti falsi. E così la Guardia di Finanza di T.E. ha eseguito un sequestro preventivo di crediti d'imposta per oltre 10 milioni di euro, dopo un'indagine legata al bonus facciate 90%. In totale il sequestro riguarda i crediti d'imposta ritenuti fittizi e distribuiti tra 32 imprese e persone fisiche nelle province di tutta Italia, comprese Venezia, Vicenza e Padova. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, riguardano il fallimento di una società con sede fino all'ottobre 2019 in provincia di Firenze e poi trasferita e dichiarata fallita in provincia di Vicenza. Ed è emerso che il legale rappresentante, a ottobre e novembre del 2021, ha ceduto alla società, pochi giorni prima del fallimento, i crediti d'imposta per oltre 10 milioni legati al bonus. In seguito la società ha ceduto i crediti a nove imprese, di cui cinque evasori totali o coinvolte in indagini per reati finanziari e che hanno effettuato ulteriori e numerose cessioni. Dalle indagini è emerso che quei crediti erano stati ceduti con dichiarazioni false sulla piattaforma web dell'Agenzia delle Entrate, fingendo l'esecuzione di lavori di ristrutturazione in 67 immobili situati a Parma, Rosolina ed Eraclea. Tra l'altro non risultano poi emesse fatture per gli interventi di recupero e restauro, che tra l'altro la società non aveva né in proprietà né in affitto. Sono tre le ricerche di persone scomparsi in corso da parte dei Vigili del Fuoco in Veneto, a Fossalta di Piave in provincia di Venezia, ma anche a Occhiobello vicino a Rovigo e a Ronco dell'Adige in provincia di Verona. Prosegue da giorni a Fossalta la ricerca del settantenne caduto nel Piave mentre era impegnato nella movimentazione del ponte di barche Zamuner. Al lavoro nella giornata odierna, personale dei Vigili del Fuoco con imbarcazione idra dotata di ecoscandaglio e sommozzatori. A Occhiobello, Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche di una donna di 40 anni di cui non si hanno più notizie dalla giornata di ieri. Da questa mattina in campo anche l'elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia. Le squadre di Verona sono infine impegnate nelle ricerche di una 64enne scomparsa da ieri pomeriggio nella zona di Ronco all'Adige. Un altro giocatore del Padova coinvolto in indagine per stupro il centrocampista Cretella rinviato a giudizio a Messina per fatti accaduti nel 2020. Intanto il caso Liguori divide la politica. Carmine Cretella, centrocampista del calcio Padova rinviato a giudizio per stupro. Dopo il caso dell'attaccante Michael Liguori condannato in primo grado a Teramo per violenza sessuale nei confronti di una 14enne un altro giocatore in forza alla società biancoscudata e protagonista di una vicenda di molestie. Carmine Cretella, che come il compagno di squadra Liguori arrivato a Padova nel 2022, è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Messina per una vicenda risalente al 2020 quando all'epoca 18enne militava nel Messina in serie D. L'inchiesta era partita dopo la denuncia presentata dal padre della presunta vittima all'epoca 14enne. Dopo la condanna di Liguori in primo grado il Padova aveva emesso una nota in cui dichiarava di non esprimere valutazioni fino a sentenza definitiva scegliendo poi di schierare in campo domenica scorsa l'attaccante. Una decisione che ha sollevato pesanti critiche come quella dell'assessore alla scuola di Padova Cristina Piva o della consigliera regionale Elena Ostanel. Anche il sindaco Sergio Giordani ha dichiarato di essere dalla parte delle donne. Un caso dunque che divide la politica. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Matteo Cavatton porta la vicenda sul piano strettamente legale. Il messaggio della solidarietà alle donne vittime di violenza è unanime ed è sottoscritto anche da me. Però purtroppo io non ritengo che un consigliere comunale un sindaco o un assessore possano ergersi a giudici, giurati e pubblici ministeri ed emettere condanna. Il nostro compito è quello di amministrare così come il dovere della magistratura è quello di istruire i processi ed emettere sentenze. Nel solco di uno stato di diritto che garantisce costituzionalmente la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Io mi domando anche cosa potrebbe fare la società perché in assenza di un provvedimento interdittivo definitivo vi sono anche da rispettare delle norme di natura contrattuale. La presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva è patrimonio del nostro ordinamento e del sistema costituzionale italiano, ha dichiarato anche il sottosegretario della giustizia e leghista Andrea Ostellari. L'interrogativo aperto riguarda anche i tempi della giustizia dato che per la condanna in primo grado sono stati necessari sei anni. A quasi un anno dalla morte Giulia Cecchettin rivive nei racconti e negli aneddoti che papà Gino racconta questa mattina per esempio agli studenti di Longarone. Partiamo dalla fine quando dopo oltre un'ora fitta di dialogo forda la retorica predominante che ci vuole diversi e dunque omologati anche nel sentimento più intimo qual è il dolore uno studente si avvicina al palco per parlare vis-à-vis con Gino Cecchettin. È l'immagine più forte che riassume il valore della mattinata intensa al centro culturale di Longarone. In platea studentesse e studenti dell'Alberghiero e dell'Enaip con i loro insegnanti per il primo dei quattro eventi organizzati dal comune di Longarone e dalla Fraternita di Misericordia contro la violenza di genere. Voglio farle vivere Giulia come posso fare? Giulia fisicamente non c'è più ma posso farle vivere con i racconti con gli elettroti che me ne ha fatti vivere tantissimi. Fondamentale l'alleanza scuola-famiglia lavorare con voi per promuovere l'educazione all'amore non semplicemente alla sessualità dirà poco prima dal palco il sindaco Roberto Padrin introdotto da Giorgia Segato che con maestria di pana intesse la conversazione con gli studenti che in queste settimane hanno raccolto e inviato le loro domande a Gino Cecchettin. Ho visto molte domande inerenti a Filippo è un nome che io non ho paura a nominare e chi era com'era e capisco anche il perché di queste domande perché si vuole identificare al di là della storia tragica chi è il profilo di un omicida. E Filippo afferma Gino Cecchettin avrebbe dovuto capire che il no di Giulia non era la fine di tutto perché oggi sarebbero entrambi qui felici. Il papà di Giulia nel dolore vive sua figlia demonizzando quello stesso dolore va avanti per sé e per la sua famiglia. Io mi ispiro a Giulia che aveva fatto diciamo dell'altruismo e della felicità e della positività uno stile di vita in modo naturale perché lei era così e ispirandomi a lei cerco di fare di portare una parola buona ecco io non ho soluzioni ma magari mi pongo tante domande ma magari in quelle domande qualcuno rivede qualcosa e riesce anche a fare qualche considerazione. Durante l'incontro c'è tempo e modo per parlare della promozione dell'attenzione verso l'altro ma anche del patriarcato che domina la nostra società eppure dell'uso dei social trappole che ti catturano spiega Gino Cecchettin che esorta la platea a non farsi fagocitare della tecnologia che allontana dalla vita reale. Come famiglia fino all'ultimo dei nostri giorni vivremo con il dolore ma cercherò di dare anche un minimo di felicità alla mia famiglia quindi Davide ed Elena potranno in qualche modo godere godersi la vita con un po' di felicità sempre riportando Giulia nel cuore che era una ragazza felice e quindi ecco cerchiamo di far sì che da questa tragedia nasca qualcosa di positivo per poter anche sorridere. terza rapina un supermercato nel giro di poche settimane in provincia di Padova siamo a Villa Franca a Padovana davanti al supermercato dove sabato sera verso l'ora di chiusura verso le 19.30 due uomini col volto coperto sono entrati impugnando una pistola e urlando questa è una rapina hanno strattonato il dipendente che era alla cassa in questo in quel momento e si sono fatti dare l'incasso dopo volevano la cassaforte sapere dove era la cassaforte dove era la cassaforte continuavano a dirlo io gli ho detto guarda non abbiamo le chiavi della cassaforte non possiamo aprirle e tutto insistevano e insistevano a un certo punto io ho suonato il campanello perché loro continuavano a insistere l'hanno preso paura hanno detto ha chiamato la polizia e hanno preso la cassa tutta la cassa e sono scappati via i due malviventi sono fuggiti poi su una BMW probabilmente rubata e hanno fatto perdere le loro tracce per identificarli i carabinieri intervenuti sul posto stanno controllando i filmati delle telecamere della zona non ho fatto tempo per paura dopo ricordando l'accaduto ti viene un po' di paura la rapina quasi all'ora di chiusura ma i soldi erano già in cassaforte avevamo appena fatto i prelievi da procedure aziendali quindi non c'erano non c'era tantissimi soldi ricordiamo questa è la terza rapina nel giro di poche settimane nel territorio del Padovano anche i clienti del supermercato che abbiamo ascoltato ci hanno trasmesso un senso di inquietudine non è che sia simpatico assolutamente anzi ci mette parecchio disagio anche tutti beh io sono un'abitue dell'esercizio non era mai successo niente di grave ho sentito ma è stato un puro caso che non fossi che non ci fossi sabato mi dispiace tanto per le ragazze perché da quello che ho sentito sono spaventate tantissimo a sera non puoi più ma guardi non puoi andare più a nessuna parte perché tanto anche se li prendono metterlo dentro una notte e poi escono e ricominciano a fare sempre fatto questa qui è una zona un po' anche crisignano poiana stessa poiana di granfione è tranquilla ma tra virgolette diciamo ma ormai che si è dappertutto e rapine penso qua sono tre nell'ultime due settimane e si è da avere paura in arrivo in Veneto una nuova ondata di maltempo con una prima fase più intensa tra la serata di domani e la mattinata di venerdì alla luce delle previsioni il centro funzionale decentrato della protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido fino alle 18 di venerdì è possibile l'innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani pedemontani collinari delle zone in allerta possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito di sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e o sottopassi e con questa informativa chiudiamo il telegiornale del Veneto dei nostri telegiornali delle nostre edizioni grazie per essere stati con noi a tutti l'augurio di una buona serata arrivederci grazie a tutti